Ciao ragazzi qui Alka Dave Allora, dato che magari c'è qualche sventurato che si iscrive al mio canale e vede solo immagini e video di me in mutande con mio fratello che urliamo, balliamo e facciamo altre amenità ho deciso che è ora di iniziare a fare dei video veri nel caso che qualcuno si iscrive e dice vediamo che fa sto qui, che è tanto bello e tanto bravo e poi fa sta merda qui quindi da oggi provo, giuro che provo a fare delle cose che possono interessare quelle quattro persone che hanno voglia di vederle chiedo scusa per i video precedenti, ce ne saranno altri simili perché io sono molto stupido in realtà però vedo di darmi una calmata partiamo subito in batta con un gioco che mi ha distrutto, davvero bellissimo un gioco fantastico che è Rayman Origins questo è bellissimo, non farò i soliti stack, le solite cose, parlerò e basta inizio dicendo la storia, io come sapete sono un grande fan della storia la seguo sempre, mi piace sapere cosa succede e cosa non succede questo gioco non ha storia, ma va bene così, è un platform 100% puro, si basa tutto solo ed esclusivamente sul divertimento il pretesto per i fatti che accadono è esilarante, non vi spoilerò nulla ma guardatelo perché è esilarante davvero e si va avanti così per più di 60 livelli che sono un'enormità e sono uno più bello dell'altro sono fantasiosi, creativi, ti spingono sempre a giocare ad andare avanti anche se crepi, dici cavolo voglio finirlo sto gioco, vai avanti graficamente è uno spettacolo, un gioiellino è tutto disegnato a mano con dei colori vivacissimi, una fantasia messa su schermo che ti uccide e funziona tutto in HD 1080 io me lo gioco sulla mia tv HD ed è uno spettacolo davvero uno spettacolo per gli occhi a volte quando si sta correndo velocissimi ti verrebbe da fermarti e guarda che cosa succede attorno ma non puoi perché devi correre velocissimo ci sto giocando in due con mio fratello ed è esilarante esilarante, un gioco che merita l'acquisto, merita di essere giocato uno dei platform migliori di quest'anno uno dei platform migliori a cui abbia mai giocato in assoluto Rayman era un ganzo, il primo Rayman, PlayStation 1, era bellissimo poi è uscito Rayman 2 del Great Escape che era molto me, io me lo ricordo ci ho giocato e dice, sì, normale da lì in poi cacca, cacca, cacca per Rayman solo i Rabbids che una volta erano suoi comprimati poi sono diventati i protagonisti principali di una saga aveva fatto successo con questo Rayman Origins lui torna a reclamare il suo posto di icona europea dei platform io ve lo consiglio, ve lo consiglio a tutti indistintamente perché questo è un videogioco un videogioco perfetto divertente, bello, longevo esilarante in due uno scaccia pensieri è alla pari di un Super Mario o di uno dei primi Sonic è bellissimo è bellissimo un'altra cosa che mi è molto piaciuta è a parte l'umorismo folle che ha questo gioco perché è davvero da folli folli totali e anche il libretto perché io sono quelli di quella vecchia scuola che quando aprono una cosa la compano vogliono che ci sia il libretto bello e questo libretto è bellissimo questo libretto è bellissimo abbiamo tutta l'introduzione abbiamo anche la scheda di ogni personaggio con relativa descrizione è esilarante anche il libretto davvero bello ragazzi cosa dirvi io questo gioco lo consiglio per tutti soprattutto quelli che non fassero una partita in cooperativa fino a 4 giocatori contemporaneamente io l'ho fatta solo fino in due perché con un alto ho giocato però se mi capita di averne altri due in casa ci scanniamo di brutto lo consiglio tutti il mio personale voto a questo è un 9 su 10 non dico 10 su 10 perché voglio capire un attimo mi manca ancora due mondi prima di finirlo però comunque ho capito com'è il gioco il gioco è da 9 9 e mezzo e per il prezzo budget a cui lo si trova in giro è un peccato non averlo in casa quindi ragazzi chiunque mi stia guardando si ricorda che Rayman Origins se volete un bel platform un platform divertente fatto bene con le contropalle prendetelo subito perché è proprio la scelta giusta ragazzi spero che questa prima anticipazione di micro video serio che ho fatto vi sia piaciuta io sono Alka Dave ci vediamo sempre qui sul mio canale ogni tanto anche su Nerd Hunters buona giornata a tutti ciao